Ciao a tutti ragazzi, si è Norco Verde. In questo video volevo informarvi che il team di Fortnite, sul proprio account Twitter, nelle notizie su battaglia reale di Fortnite, ha confermato che presto usciranno gli esplosivi telecomandati. Praticamente il C4 e come funzionerà quest'arma? Sicuramente come le mine a distanza su GTA V online. Bisognerà piazzare questo C4 e appena ci passerà vicino un nemico lo si fa esplodere. Io penso che appena sarà piazzato questo C4 da qualche parte si sentirà un rumore di quest'arma perché altrimenti secondo me quest'arma su Fortnite sarà troppo overpower. Perché sicuramente quest'arma verrà piazzata spesso nelle entrate delle case, con il nemico nascosto nella casa e appena entreremo in casa il nemico farà esplodere il C4. Bisognerà vedere il suo danno, quanta vita toglierà. Speriamo che quando si piazza questo C4 si sentirà un rumore così che i giocatori sanno se è stato piazzato un C4 oppure no. Non è stata specificata la data precisa di quando uscirà quest'arma nel gioco ma probabilmente uscirà giovedì con nuovo aggiornamento insieme alle sfide del pass battaglia della quarta settimana. E niente ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate riguardo quest'arma che presto sarà rilasciata su Fortnite. Io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, seguitemi sui social, sulla pagina Facebook, su Instagram e sul canale Telegram. Inoltre entrate nel gruppo Telegram per parlare insieme. E da Orkoverd è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Bella! Ciao!